Allora un grande saluto a Radio Voce del Deserto di Rovigo, da tutti i neri per caso, un grande abbraccio. Ciao ascoltatori di Radio Voce del Deserto di Rovigo, dai neri per caso, un grande saluto anche a Cappella, adesso ve lo cantiamo. Ci devi stare, inutile sperare, di recuperare se hanno detto no, meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no.